Buongiorno, sono Claudia Strasserra del Biuro Veritas, mi occupo di sostenibilità. Oggi sono venuta a parlare di ISO 20400, la norma ISO sugli approvvigionamenti responsabili e con mio grande piacere e soddisfazione mi sono accorta che tutti i relatori che mi avevano preceduto avevano già con le loro testimonianze portato non solo la conoscenza ma anche l'esperienza sulla ISO 20400. Quindi è stato per me un piacere ribadire alcuni concetti e soprattutto lasciare una traccia non solo per chi c'era ma anche per chi dal di fuori ci leggerà e ci ascolterà.